Per minimi teatri vi farò ascoltare Si parte di Giovannino Guareschi. La signora parte per le cure balneari e oramai questo lo si sa anche all'estero, data la discrezione delle 500 donne del rione alle quali la madre della mia paternità l'ha confidato in segreto. Ci va per la prima volta e anche questo lo si sa, data la discrezione mia, essendomi io limitato a confidarlo in gran segreto ai lettori del nostro arguto settimanale. Perciò sembrerebbe sufficiente dire all'aspirante Ondina e al suo aspirante Ondino «Bon viaggio e arrivederci alla fine dei soldi!» Invece no, perché prima di partire la esimia signora deve confezionare i bagagli, il che significa che io, interrotti i miei lavori d'indole letteraria e artistica e rimboccatemi le maniche, debbo stipare in un bauletto manufatti di lama e cotone d'ambo i sessi, perché anche Albertino ha un sesso e delle esigenze, indumenti vari e capi di biancheria tanto intima che io mi vergogno persino a dirlo. Ho cominciato perciò a confezionare i bagagli della famiglia in partenza e, a un bel momento, le candide mani che un tempo accarezzarono col loro sguardo languido il mio piccolo cuore di zitello, mi hanno messo davanti al naso due lucide soprascarpe di gomma. «Le soprascarpe di gomma? Cosa te ne fai?» ho chiesto perplesso. «Sai, al mare, con tutta quell'acqua!» Il buon Dio mi è testimone che io dico la verità sacrosanta. La signora di cui sopra ha avuto il coraggio di assicurarmi che Albertino sì farà il bagno, ma con la pancerina di lana sotto il costume. Io, Giovannino di anni 33 circa, ho ragione se mi arrabbio oppure no. Ho buttato le soprascarpe il più lontano possibile, ottenendo il confortevole risultato che pochi minuti dopo mi venivano porte a tradimento da Albertino. E peggio di prima, perché l'illustre omuncolo le aveva accuratamente spazzolate con lo spazzolino da denti, usando invece del lucido per scarpe non il dentifricio come sarebbe stato logico, ma la marmellata di susine. Un uomo, anche robusto e giovane come sono io, con un paio di soprascarpe sporche di marmellata fra le mani, è finito. Seguendo il suo primo impulso, l'uomo robusto e giovane scaglia i due arnesi contro il soffitto, dove rimangono regolarmente appiccicati. Cosicché due minuti dopo, almeno una delle soprascarpe gli casca in testa, impegolandogli i capelli. Bisogna lavarsi la testa, altrimenti tutte le mosche della contrada correranno a invischiarsi fra le dolci chiome di Giovannino. Nel frattempo, Giovannino, seguendo il primo impulso del secondo momento, staccatasi la scarpa dalla testa, la scaglierà con violenza contro il pavimento. Dieci minuti dopo, ritornando dal bagno con la testa netta, un piede di Giovannino finirà sulla maledetta soprascarpa e Giovannino, con un notevole scivolone, precipiterà a lungo e disteso per terra. Giovannino si rialza seriamente contuso e, riavutosi, cerca la dannata soprascarpa con marmellata per ucciderla. Ma egli non la vede. E non può neppure vederla, perché il malefico arnese gli si è incollato alla parte della schiena che serve per sedersi. Giovannino, ammaccato, sudato e sbracalato, non si accorge di niente e, inginocchiatosi davanti al bauletto, riprende a ordinare gli indumenti. Ma Albertino veglia e, sopraggiunto cautamente alle spalle del padre, trovando la presentazione della marmellata nuova e allettante, si inginocchi anch'esso e comincia a leccare con impegno la soprascarpa appiccicata dove già si è detto. Giovannino, a un bel momento, si sposta un po' indietro e, trovando inaspettata resistenza, si alza di scatto, si volge e scopre qualcosa che lo riempie di orrore. Accovacciata sul pavimento, giace la creatura che egli ama sopra ogni cosa al mondo. Ecco i capelli fini e ondulati, ecco le braccine tonde, ecco le manine tenere. Ma il viso? Il dolce viso a quale orrenda cosa è ridotto? Dove sono gli occhietti che fino a pochi minuti fa lo guardavano? Dov'è la piccola bocca dalle labruzze rosse? Tutto è scomparso e il dolce viso è qualcosa di nero, di informe, di gelatinoso, un turpe e viscido ammasso rugoso. La soprascarpa si è appiccicata alla faccia di Albertino. Bisogna lavare anche Albertino. Lavarlo tutto, dalla punta delle scarpe alla punta dei piedi. L'infelice è impregnato di marmellata. Giovannino ritorna al suo baule e riprende il suo lavoro, ma improvvisamente un urlo straziante lo fa balzare in piedi. Aiuto! Una bestia mi è caduta in testa! Aiuto! Grida terrorizzata la madre di Albertino. Ha gli occhi sbarrati e le labbra esangui. L'altra soprascarpa si è staccata dal soffitto ed è caduta in testa la signora. Occorre che la signora si lavi le chiome e che Giovannino si ripulisca ancora una volta le mani. Ma ben presto un nuovo urlo di terrore scuote Giovannino. La bestia! Gorgoglia la signora indicando Albertino che porta appiccicata sul sederino una delle soprascarpe di gomma. È una storia che non finisce più dunque, ma deve pure finire. La soprascarpa viene strappata dalle vesti di Albertino e finisce i suoi giorni nel condotto della spazzatura. Presto dammi anche l'altra! Grida Giovannino. Ma l'altra soprascarpa? Dove? La si cerca affannosamente dappertutto e in vano. Alla fine la signora, mentre depone un indumento nel baule, lancia un urlo. La bestia! Perché, buon Dio, la donna che per due volte ha gridato la bestia e per tutte e due le volte ha constatato che si trattava di una soprascarpa di gomma, ora che trova la soprascarpa di gomma impegolata fra i lini e le sete del baule, grida per una terza volta la bestia? Non ho ragione se mi arrabbio? Ho ragione sì, e oggi purtroppo non la finivo più di arrabbiarmi. Distrutta la seconda soprascarpa, ripuliti gli indumenti, il pavimento e il soffitto, finalmente ho chiuso il baule facendo scattare il lucchetto e consegnando la chiave a lei sì, mia signora. Bada di non perderla, figurati! Due minuti dopo il telefono ha squillato e poi subito ho udito una esclamazione straordinaria. Giovannino, il telefono non c'è più! Fino a pochi minuti prima il telefono stava sul tavolino e adesso non c'era più. E chi suonava allora? Suonava il telefono naturalmente, ma di dentro al baule. Il cavo nero usciva dalla fessura del coperchio e io mi sono spiegato allora come avessi dovuto premere tanto per chiudere. Mi sono avviato cupo, stringendo i pugni verso Albertino che seduto per terra mi guardava sorridendo, ma l'autrice del piccolo sciagurato mi ha sbarrato il passo. No, Giovannino, ucciderlo sarebbe inutile, bisogna fargliele capire le cose. Poi, rivoltasi verso Albertino e minacciandolo col dito, no, Cocchino, non bisogna mettere il telefono nel baule. Tutu, ha risposto Albertino indicando il maledetto tutu che nel baule strillava come un pazzo. Presto dammi la chiave, ho detto. Quando le avevo ricordato di stare attenta a non perdere la chiave, la egregia signora aveva risposto con sdegno, figurati! E così è risultata perfettamente inutile ogni ricerca. La chiave non si è trovata più. Nel frattempo, il telefono continuava a strillare fra i manufatti di lana e di cotone. Era una cosa straziante. Taglia il cordone e sia finita, mi ha consigliato la signora. Ecco altre parole atte a far impazzire Giovannino. Perché tagliare il cordone? Perché rovinare l'impianto senza per questo poter sapere chi telefona e senza neppure poter togliere il telefono dal baule? E se fosse quella telefonata da Torino? Ho urlato. Debo buttare a monte un affare così? Beh, forse scuotendo il baule potrai far cadere il ricevitore e sentire di che cosa si tratta. Per parlare basterà che tu urli un po', ha suggerito l'ingegnosa signora. Parlare con un baule. Una parola. E poi la roba era stipata e l'arnese non si è mosso di un millimetro nonostante ogni sforzo. Nel frattempo il telefono continuava a suonare come un pazzo. Deve essere proprio l'intercomunale. Ho ruggito dando di piglio un'accetta e spaccando il coperchio del baule. Ho potuto finalmente agguantare il cornetto. Sudavo e ansimavo. Pronto? Pronto? Parla all'oretti? No. Scusate, ho sbagliato. Occorre dire che il microfono era sporco di marmellata e che mi si è appiccicato all'orecchio come carta moschicida? Mi sono abbandonato su una poltrona. Ai miei piedi Albertino, seduto per terra, stava giocando con alcuni aggeggi, tra i quali naturalmente c'era la chiave del maledetto baule. «Babio bello!» ha detto Albertino, alzando gli occhi e sorridendomi. «Babbino bello! Ecco come questi mascalzoni fregano gli uomini che stanno per punirli dei loro delitti. Ma mia butta!» ha aggiunto Albertino storcendo le labbra e creando abilmente un antagonismo fra me e sua madre. «Lo vedi com'è affezionato a te?» ha sospirato l'esimia utrice dello sciagurato. «Sono andato a comprare un altro baule, recando Albertino a cavalcioni sulle spalle. Occorre dire che il piccolo masnadiero aveva i calzoni sporchi di marmellata e che mi ha impegolato tutto il collo?» No, non occorre dirlo. E così, stando a casa, abbiamo potuto ascoltare questo bel racconto del grande Giovannino Guareschi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!